quindi oltre a che scavare meno abbiamo beccato meno acqua meno mostra che cazzo di vino e soprattutto non solo quella porruzione verso destra c'era anche molta meno porruzione dove abbiamo fatto pratica a scavare avrei pure verso sinistra tabbo tanto non siamo molto lontani arrivo tu black hai ancora problemi a far partire il gioco ah non è collegato ma mi sa che non l'ho più sentito neanche un certo vocale ma il dungeon è tipo metamondo comunque io penso non sa la fine ah no siamo arrivati alla fine quindi non va più avanti si è bloccato si è bloccato lo scroll orizzontale arriviamo all'ultimo blocco quindi siamo addirittura sotto l'oceano a pesca e amina altro e all'acqua fin dico se andiamo in basso ci sarà il ovviamente ovviamente un collegamento unico inferno oceano e facciamo andare giù tutta l'acqua del mondo roviniamo l'ecosistema di questo mondo volete provare a scavare in basso e cosa c'è mi sentite stasera ciao black abbiamo rotto il mondo io per oggi mi reputo abbastanza soddisfatto di ciò che abbiamo fatto quindi sono terminato mi nombrere alle 6 facete lontanissimi vabbè però se mi scavate così in verticale l'ultimissimo blocco è acqua l'ultimissimo blocco è acqua non mi raggiungo ne acqua ma tanto adesso voglio vedere cosa c'è qua sotto c'è un nemico ma no qua c'è un'acqua che cazzo è successo sono stato io che cazzo è l'unico dell'acqua io acqua infinita adesso cazzo è una cascata cazzo è una cascata cazzo è stato un nemico tuffico quindi andata querto più a sinistra non e poi vi porto un po' di acqua 2 se non può muovere c'è più roba da esplorare ms 2 ma appunto giocando in tanti ne vale la pena un singolo in modo immense è assurdo in tanti siamo in tanti noi siamo in cinque va benissimo come sempre ma che sono quelli a cleppi ma poi riusciremo a farlo giocare a qualcosa il problema è che poi clay ma lì stanno i idol e probabilmente giusto se creiamo un tamago cp o qualcosa del genere oh no sto fogando cazzo di sabbia c'è a me non ha scavato più però no no si ha scavato ancora no sto pagato peccato ne hanno messo un po' di armi random proprio nei posti nei blocchi più nascosti è di stato fome ma è di stato fome ma ha capito che devi andare a dormire tanto anch'io domani mattina alle 6 devo alzarmi infatti un quarto d'ora poi stacco ci sono un po' di nemici sono bellissimi quelli che ho questa faccia sembra uscire a terra riesco a scendere e c'è un blocchi il nostro bisogna lo voglio usciare per andare a fare un altro tipo però è in una attivazione quindi e' bene vedo un cazzo ah Rogue's sta cercando la gamba di tante a volte sembra che non scavano forse non c'è un certo punto 2 ma la istituzione che sei in un punto c'è qualche un blocco che non vedi ma qua moriamo affogati improbabili no quant'acqua c'è adesso minchia sto morendo no 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 c'è la sabbia sennò riuscivo a respirare mi ha ucciso il pistello ahahah minchia quant'acqua minchia minchia come vestito